Questa è una bolletta che è stata strappata, perché non è possibile pagare. Non è giusto, questa situazione per me non è giusta, non è giusta e non è giusto. Nella stessa abitazione sono arrivata due bollette, una vicino a me e una vicino a mia figlia, è possibile? Che sono in galera, hanno rubato i soldi e non c'è mai passato, che mi ha pagato? Sono i 600 euro di pensione, voglio vedere come pagano. Date spiegazione alla gente. Sono quattro elementi, sono quattro elementi, l'avvocato Grillo, che sapevano la magagna, perché stavano con il cappello, perché non hanno fatto qualcosa prima? E poi ci sono arrivate queste bollette. Il problema è anche un altro, che dobbiamo pagare purtroppo, è la spazzatura che persone non pagano, perché ci sono persone che non pagano. Noi vogliamo pagare, in base ai nostri metri quadri, in base anche ai figli, se lavorano, perché ci sono famiglie con bambini minorenni, con persone disoccupate, però siamo costretti a pagare spazzatura che non viene pagata. Bisogna fare un'inchiesta e vedere la spazzatura da chi è stato pagato, perché si vociterà che anche le persone benestanti non hanno pagato. Protesta composta, ma decisa davanti al municipio di Piedimonte Matese, per chiedere al commissario alcuni chiarimenti sul perché delle bollette dei rifiuti levitate vertiginosamente, chi è il responsabile del provvedimento, la dilazione delle rate e un tavolo di concertazione con la nuova amministrazione comunale, immediatamente dopo l'insediamento. Il comitato dei cittadini ha poi sottolineato ancora una volta che nessuno vuole sottrarsi dal pagare, ma tutti hanno il diritto di sapere il perché si è arrivati a cifre da capogiro. Perché i commercianti sono qui stamattina? I commercianti sono qui in supporto ai cittadini perché noi siamo doppiamente cittadini, noi ci stanno arrivando le bollette dell'Atari con un aumento spropositato e noi dobbiamo pagare casa, dobbiamo pagare negozio e vorremmo un responsabile in questo momento. In questo momento cerchiamo solo una risposta alla nostra domanda e perché sono aumentate in questo modo le bollette? Di quanto sono aumentate? La media di aumento è dai 100-130 euro ad utenza, ci sono anche utenze che hanno pagato meno in base delle regole che sono nelle delibere, però la maggior parte, l'80% delle persone ha ricevuto un aumento. Ok, e i cittadini cosa pensano di fare questa mattina? I cittadini dietro mio invito, spontaneo, senza nessuna pretesa, se non quella di ricercare una verità che a questo punto esigiamo, noi siamo persone oneste che hanno sempre pagato, io in prima persona posso farvi vedere... E che continueranno a pagare? Questo sicuramente perché non è contemplato il fatto di diventare diversi da quello che siamo sempre stati. Io sono una persona per bene, onesta e un ottimo contribuente perché pago prima del tempo. Voglio sapere chi ha firmato questa delibera, voglio sapere chi ha firmato questo regolamento, voglio sapere perché è stato applicato il massimo, voglio sapere tutte queste cose, perché ci sono stati dati tre mesi di tre appuntamenti per pagare così a ridosso anche delle vacanze estive, perché una famiglia fa grandi sacrifici per portare i figli a mare e avere 600 euro di immondizia da pagare significa che i miei figli quest'anno gli faccio vedere una bella cartolina del mare. Magari ce la manda la commissaria e tutti questi signori che hanno firmato questa delibera e hanno avuto questo pensiero per i propri cittadini. Sono cartelli che in genere ci aspettiamo a ottobre, novembre, dicembre e quindi già abbiamo un bilancio fatto su come far uscire i nostri soldi, invece ci hanno voluto regalare questo appuntamento prima del tempo. Questi signori che stanno alle nostre spalle hanno probabilmente il mio stesso disagio e vogliamo manifestare. Manifestare pacificamente ovviamente. Ma infatti l'abbiamo scritto sul manifesto, non vedo perché deve essere diversamente, non siamo guerriglieri né terroristi dell'ISIS, siamo persone che vogliono la verità e motivatamente arrabbiate. Da Piedimonte, Matese, tutto, Emidio Bianchi e Lorenzo Applauso per casertasera.it